Buonasera e bentrovati ai nostri amici telespettatori, nuovo appuntamento di TV City Focus, l'occhio lungo sulla città. Ritroviamo in studio l'assessore Antonio Ramondo, assessore all'ambiente, alla protezione civile e alla sanità del Comune Editore del Greco. Buonasera, assessore, è ben accettato il nostro invito e bentrovato. Grazie. Allora, assessore, partiamo subito di recente ufficializzati in sede di una conferenza stampa e resi noti i primi dati della nuova raccolta differenziata, quasi tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo calendario di conferimento, si passa dal 18% al 35%, ma lei non si ritiene ancora del tutto soddisfatto. Quali le previsioni, quali i prossimi step, quale sarebbe stata la sua aspettativa a tre mesi dall'entrata in vigore? Allora, col nuovo calendario e dopo aver fatto una revisione iniziale delle attività svolte da questo contratto che tengo sempre a puntualizzare, che abbiamo ereditato per i primi quattro anni, abbiamo semplificato un po' la vita ai cittadini torresi. In prima battuta già i soggetti più esposti, quelli maggiori produttori di materiali, quali sono i lidi e le attività food, che abbiamo compulsato in modo adeguato, con una raccolta dedicata che facciamo per questi soggetti, non fosse altro anche per gli oneri che loro sopportano, abbiamo ottenuto dei buoni risultati. La raccolta differenziata che abbiamo inaugurato con il nuovo programma, con il nuovo calendario monomateriale, che è una semplificazione, ma tra l'altro una semplificazione anche tecnica, perché dovete sapere che quei giorni nei quali raccogliamo quel materiale corrispondono esattamente alla disponibilità degli impianti. Quindi non si crea nessun incongro e nessun ingorgo logistico con la raccolta con gli automezzi e con gli impianti ai quali andiamo a conferire. I risultati, dipende dal punto di vista dell'interpretazione, potrebbero essere esaltanti per chi ci si accontenta, ma dato che non mi accontento e sto battendo molto sul senso civico dei torresi, cosa che purtroppo registro ancora inadeguato, probabilmente la campagna di informazione che abbiamo fatto per circa tre mesi, la campagna di sensibilizzazione, le informazioni, la distribuzione dei calendari, la distribuzione dei mastelli per i pannolini e i pannoloni, l'isola che abbiamo messo giù al Palazzo Lasalle per la raccolta dei materiali ingombranti e dei RAE. Stamani e non ultima abbiamo inaugurato la prima ecoisola elettronica che metterà in condizioni i cittadini che non possono conferire durante gli orari ordinari i materiali differenziati, ma quello che purtroppo devo rilevare e questo lo rilevo da un esame dettagliato delle telecamere che abbiamo posizionato sul territorio, perché pensate abbiamo fatto circa 500 sanzioni ad oggi, registra ancora un comportamento molto 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 irresponsabile, dire in civile è poco, ma è irresponsabile. Su questo voglio fare un appunto, da ottobre è cambiata la normativa. Ne parleremo dopo, infatti c'è una domanda apposita, quindi mi prendo tempo ancora, passerei alla seconda domanda, lei diceva è un capitolato ereditato, scadrà nel mese di settembre prossimo, come ritiene, restando in tema di conferimento rifiuti, di ammigliorare ulteriormente o di garantire il sistema di smaltimento? Si dovrà reintervenire sul calendario o pensa di potenziare ulteriormente il servizio? No, il calendario rimarrà quello e secondo me sarà un calendario che utilizzeremo sempre, anche con la nuova organizzazione che vedrà la mano operativa di questa amministrazione, del progetto che realizzeremo attraverso la partecipata nell'ambito territoriale di nostra competenza. Quel calendario, ripeto, è legato alla disponibilità degli impianti, quello è e quello rimane e rimarrà anche dopo. Quello che dovremmo fare ancora è utilizzare al meglio quelle che sono le proposte migliorative che l'azienda all'epoca propose, ad integrare con ulteriori ausili sul territorio, implementare la presenza nei punti strategici di cestini, raccogli rifiuti nei punti critici dove ci stanno punti di maggiore aggregazione, presso bar, locali che forniscono alimenti, bevande, aumentare la sorveglianza, cosa che stiamo facendo attraverso la convenzione che abbiamo fatto con due associazioni di volontariato, quindi avremo degli ispettori ambientali sul territorio e sensibilizzare sempre più la cittadinanza a conferire in modo differenziato. Guardate, differenziare e conferire in modo ordinato equivale a risparmiare soldi perché il materiale indifferenziato lo conferiamo agli impianti pubblici a 128 euro a tonnellata, scusatemi a 228 euro a tonnellata, mentre quello lì che noi raccogliamo differenziato è valorizzato e quindi le frazioni ci vengono riconosciute dai singoli consorsi di rifiliera che ci danno dei rimborsi. Tali rimborsi serviranno ad abbattere la tariffa tari. Quindi differenziamo, miglioriamo il servizio, risparmiamo. Assessore, ci viene più volte richiesto anche in via informativa come organo di informazione la possibilità di poter ripristinare dei cestini da strada. È prevedibile questo ulteriore ausilio per la cittadinanza? Questi cestini da strada sono fondamentali. Noi già ne abbiamo mondati all'incirca una ventina durante il periodo natalizio nella parte centrale del nostro territorio, nelle strade a maggiore fruscio, Salvatornota, via Roma, via Vittorio Veneto, Corso Vittorio Emanuele, via tutta l'area centrale, nei pressi dello spazio antistante e la parrocchia, via Comizi. Ne implementeremo altri, sto facendo fare una valutazione da parte dei nostri ispettori ambientali comunali nei punti critici dove, come dicevo prima, dove ci stanno delle attività particolari nei pressi di barro o altro, metteremo ulteriori cestini in modo tale che gli avventori non sono costretti a buttare carte per strada, contenitori e quant'altro. Quindi a migliorare anche l'aspetto nei pressi di queste attività. Grazie Assessore, cambiamo argomento, in vigore da mercoledì la prima eco-isola elettronica installata presso l'area parcheggio La Salle, un servizio che va ad offrire una miglioria a quello dello smaltimento dei rifiuti, oltretutto previsto dal capitolato, secondo il quale si sarebbero dovute allocare tre isole ecologiche sul territorio cittadino, almeno tre, questa la prima, ne seguiranno altre due, vanno ad implementare o a sostituire quelle previsionali del capitolato? Vanno a migliorare perché nell'ambito delle migliorie ci venneranno offerte alternative diverse, isole mobili, informative, informativi, abbiamo deciso invece di convertire quelle proposte in tre eco-isole, eco-isole informatizzate. Queste tre eco-isole informatizzate, come dicevo poc'anzi, verranno posizionate in tre punti strategici della città e tra l'altro tre punti che geograficamente offrono la disponibilità ad essere accolte. Una è andata nell'ex isole ecologiche di Palazzo La Salle, un'altra verrà a Piazzale della Repubblica, un'altra invece verrà posizionata a Leopardi. Questo per dare la possibilità, come dicevo prima, a coloro che non possono rispettare gli orari di conferimenti ad avere questo ulteriore uso implementativo e migliorativo per la raccolta ed eliminare pure qualche scusante, diciamo io scendo la mattina e la notte sto al lavoro o quant'altro vicino a qualche disabile, qualche badante, oggi hanno l'opportunità di regarsi in questi punti strategici della città disponibili tra l'altro proprio geograficamente per il territorio comunale e conferire le frazioni. Queste eco-isole alle quali si accede con l'utilizzo del codice fiscale o cosiddetta tessera sanitaria del capo famiglia, ci tengo a ribadirlo, basta portarsi il codice fiscale del capo famiglia perché quel codice fiscale è registrato al comune come posizione tari, altrimenti l'eco-isola, i portelloni non si aprono. Poi con lo sfioro della mano sui sensori, sulle singole frazioni, carta, cartone, vetro, multimateriale e umido, si apre il portellone elettronico e così viene conferito il materiale. Le eco-isole però hanno uno scopo preventivo e suppletivo del servizio in questa fase ma preventivo per quello che sarà la fase successiva. Vogliamo valutare l'utilizzo delle stesse e stiamo già ragionando eventualmente di posizionarli in punti strategici quali parchi o altro dove ci sanno dei macroaggregati per semplificare anche la modalità di conferimento. Oltre a questo, nell'intenzione dell'amministrazione, visto che verranno registrati gli utenti, di trovare un percorso di premialità che avverrà successivamente. Ripeto, noi il ciclo integrato dei rifiuti, la raccolta per sensibilizzare la città è articolato con un programma preciso, dal mio arrivo le cose sono state emesse, è stato creato un cronoprogramma ordinato e in modo tale da poter ottenere il massimo da parte della cittadinanza, scusando eliminando motivazioni che possono arrecare disturbo e quindi un malfunzionamento del servizio. Quindi prima una campagna di informazione, una campagna motivazionale che verrà impegnate altre strutture ancora nelle scuole per poter educare anche una futura classe dirigente e quindi i cittadini del futuro del nostro territorio, quindi continueremo questa campagna di sensibilizzazione e di informazione. Successivamente è stato creato un calendario congruo, fattibile, praticabile, il quale calendario sposa la disponibilità impiantistica, quindi una correlazione netta tra la raccolta e il conferimento, quindi raccolta, disponibilità dell'impianto e conferimento. Successivamente inizia un'attività di controllo del territorio, vedete che non abbiamo fatto prima perché non è corretto sanzionare dei cittadini disinformati, ma un cittadino informato lo si può sanzionare perché non rispetta la regola. Quindi attività di controllo del territorio ed eventuali sanzioni che verranno fatte attraverso l'individuazione degli ispettori ambientali che abbiamo convenzionato con il supporto dei vigili urbani, videocontrollo del territorio, dopodiché deve partire obbligatoriamente per i cittadini virtuosi un'attività di premialità. Per cui queste eco-isole sono funzionali alla conclusione del progetto. A proposito di sanzionamento, di recente l'abbandono selvaggio ed incontrollato dei rifiuti è diventata materia di rilevanza penale. Come si adeguerà l'azione dell'amministrazione comunale al nuovo disposto normativo? Allora, hanno modificato con il decreto semplificazione e con il 184 e il 152, cito le norme per i non addetti lavori e per gli addetti lavori in modo che possono andare a verificare. C'è un cambio di normativo, una semplificazione riguardo i rifiuti urbani nell'assimilabilità o meno ai rifiuti. Oggi i rifiuti urbani vengono codificati e individuati, non c'è più l'assimilabilità che prima decretava ogni singola amministrazione, ma lo Stato ha individuato nell'ambito 184 e 152 la codifica dei rifiuti. Quindi i rifiuti urbani sono individuati. Vengono individuati i produttori, vengono individuati i produttori industriali e quindi quei rifiuti provenienti da attività produttive e vengono individuati i rifiuti urbani derivanti da attività domestica. Anche lo smaltimento irregolare del rifiuto domestico è configurato come reato penale. Lo smaltimento dei rifiuti urbani, quindi domestici, in modo irregolare, accumuli che vediamo in Vico San Vito, Vico Costinelle, Piazza San Giuseppe alle Paludi, via Santa Teresa, via Salzano, al Colle di San D'Alfonso, via Carbolillo, via Ponte della Catta, in tutti quei punti critici, coloro che sono stati beccati finora e sappiate ne sono stati beccati circa 584 con le telecamere, con la videosorveglianza e hanno avuto sanzioni di 500 euro. Oggi non ci sarà più quella sanzione, ma ci sarà un'ammenda e quindi ci sarà un procedimento penale con relativa denuncia a carico di coloro che smaltiranno in modo irregolare. Quindi un invito a tutta la cittadinanza di essere attenti perché non stiamo più parlando di una merda multa e quindi di una sanzione comunale e quindi amministrativa, ma di un'ammenda. Il distinguo tra l'ammenda e la sanzione è che l'ammenda è penale, viene pagata e vale dalle 500 euro fino ai 10.000 euro, poi ci stanno di una gradualità, ma sono cifre importantissime, ma oltre alle cifre importanti c'è il reato penale che verrà scritto nei vari casellari giudiziali dei singoli cittadini che trasgrediranno. Quindi cambia, noi modificheremo anche l'ordinanza nostra che abbiamo prodotta appena un mese fa, adeguandola a quelle che sono il disposto normativo attuale e quindi avviseremo anche la città, provvederemo a un'ulteriore campagna di informazione anche nel merito, però avviso tutti, massima attenzione, rispettate le regole perché non ci troviamo più nel perimetro amministrativo, ma andiamo nel perimetro penale. Chiaro ed efficace, anche per lei l'ultima domanda, che cosa sarà il dopocapitolato, quale futuro per la città di Torre del Greco a partire dal prossimo settembre? Sarà una bellissima avventura che ci farà mettere su un progetto importantissimo che è quello che nel nostro subambito attiveremo congiuntamente alle amministrazioni che ne fanno parte, vi ricordo che sono nove comuni, insieme ai comuni di Trecase, Bosco Reale, Bosco Trecase, Pompei, Sant'Antonio Abbate, Santa Maria la Carità, con i quali stiamo lavorando già braccio a braccio a un progetto comune che prevederà l'individuazione di un player internazionale di spessore perché si costituirà una società nella quale il 49% sarà dato al privato e il 51% in mano pubblica perché l'indirizzo e la guida deve essere pubblica perché riteniamo che il contenimento dei costi e della spesa e di un'erequazione del servizio che sia universale come quello dei rifiuti urbani vada espletato in modo congruo e in modo fattivo con dei costi accessibili. In questo si prevederanno un progetto unico che vedrà un piano industriale nel quale verranno coinvolte tutte le amministrazioni, faremo tesoro dell'esperienza che stiamo consumando in questi giorni, faremo tesoro dell'esperienza degli altri comuni, uno per tutte Santa Maria la Carità, immaginatevi un comune che viaggia intorno a oltre l'80%, quasi il 90% di raccolto differenziale, hanno fatto un lavoro negli anni straordinario, valuteremo e mutueremo queste esperienze riportandolo su scala relativa al bacino di competenza del nostro SAD, lavoreremo affinché ci sarà un progetto che vedrà il coinvolgimento di tutti gli attori in relazione anche alla realizzazione di impianti che chiuderanno il ciclo integrato dei rifiuti e la valorizzazione dei materiali che da essi ne deriveranno come le frazioni nobili quali il vetro, la carta, il cartone, i metalli e quant'altro. Piattaforme adeguate nelle quali conferiremo i materiali indifferenziati per recuperare ulteriormente frazioni differenziabili, perché no? E ancora piattaforme nelle quali arriveranno gli ingombranti per una prima lavorazione e separazione delle frazioni nobili da questi materiali ingombranti, in modo tale da recuperare tutto il recuperabile tendendo a offrire un servizio adeguato, congruo, che vedrà una tariffa soprattutto sopportabile e compatibile con le esigenze dei nostri concittadini. Sarà un lavoro lungo, una sfida importante, ma le premesse ci sono tutte, utilizzeremo tutte le nostre competenze, la nostra esperienza oramai quarantennale in tale settore e quindi offriremo il meglio al nostro territorio. Chiaramente il tutto non potrà prescindere dalla collaborazione fattiva di tutta la cittadinanza, in modo particolare la nostra e vorrei arrivare all'appuntamento con la nuova organizzazione, con una città che abbia acquisito consapevolezza e dell'importanza che questo servizio richiede. Ma soprattutto su un tema, uno il risparmio, l'altro il rispetto dell'ambiente, l'ambiente è la connotazione esatta del sito dove noi viviamo e se il nostro ambiente è accogliente, è pulito, è ordinato e noi siamo rispettosi delle matrici ambientali, dell'acqua, del suolo, avremo degli ambienti concreti, vivremo in bei posti, valorizzeremo il nostro habitat e saremo rispettosi di quello della natura. Come dire, fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani la frase storica, grazie Assessore, grazie veramente della disponibilità, un anno importante, un anno ricco di sfide ma anche di appuntamenti sul territorio, avremo piacere di riospitarla prossimamente nei prossimi mesi nel corso del nostro format TV City Focus per gli sviluppi del caso e della vicenda rifiuti a Torre del Greco. Con questo è davvero tutto, appuntamento ai nostri amici telespettatori alla prossima settimana, grazie di averci scelti, di essere stati in nostra compagnia, buonasera dalla regia e da Salvatore Perello. Grazie a tutti delle spettatori. Grazie. 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 Grazie.